In collaborazione con Edis SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Edis è costruzione edile, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozioni Ethernet, coperture civili e industriali, polioree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Edis di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e del 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Edis SRL, via fratte 10, Osimo. La sanitaria Fogliardi del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente, con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di Via Esonzo ad Ancuna, vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asur Inail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24 Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Canale Salute. L'occhio è il più importante organo di senso. Oltre il 90% delle informazioni ci giungono per mezzo della vista. Questa sera parleremo infatti di chirurgia d'urgenza dell'occhio e prevenzione dello strabismo in età pediatrica. E lo faremo con i nostri graditi ospiti che sono già presenti in studio. Abbiamo con noi il dottor Carlo Sprovieri, direttore Unità Operativa Complessa di Oculistica, ospedale Murri di Fermo. Buonasera dottore. Buonasera a tutti. E poi abbiamo con noi il dottor Luca Borgioli, dirigente medico, sempre Unità Operativa Complessa di Oculistica, ospedale Murri di Fermo. Buonasera dottore. Buonasera, grazie. Iniziamo a parlare delle patologie dell'occhio in età pediatrica. Dottor Sprovieri, insomma nei primissimi giorni di vita del neonato il pediatra effettua il test di riflesso rosso sul neonato. Ci vuole dire di che cosa si tratta? È un test semplice ma molto importante perché per spiegare bene noi siamo abituati a considerare la parte nera dell'occhio, la pupilla, in realtà non è nera ma è trasparente perché dietro la pupilla c'è una lente che si chiama cristallino e nella parte posteriore c'è la retina che è la struttura nervosa che riceve le immagini e le invia al cervello che è molto vascolarizzata, quindi ha arterie e vene. Per cui proiettando una luce, una semplicissima lucina sulla pupilla, specialmente dilatandola con le gocce apposite, si ha un riflesso del fondo dell'occhio, cioè dovuto al fatto che la retina è vascolarizzata che indirettamente ci dice che l'occhio non ha anomalie importanti. In particolare se c'è un'assenza del riflesso del fondo si può sospettare o un'opacità della lente che sta dietro la pupilla, cioè del cristallino, in questo caso si parla di cataratta congenita, oppure se sempre il riflesso è scomparso, non è rosso ma è bianco oppure grigio, e si può sospettare una patologia anche molto grave della parte posteriore dell'occhio, della parte della retina, fra cui anche alcune patologie cancerose di estrema gravità. Quindi il riflesso del fondo oggi si fa in modo che venga monitorato, non solo subito appena nato il bambino, ma anche nei primissimi anni e il pediatra diciamo prende in carico questo obbligo ormai di monitorarlo perché spesso è il pediatra stesso a sollecitare poi il contatto con l'oculista. Ora parliamo dottore dell'ambliopia, ecco ci vuole dire che cos'è e perché si sviluppa? Un messaggio che vorrei dare forte e chiaro è che l'occhio è una struttura che sviluppa la parte funzionale, cioè la vista, dai 0 ai 7 anni, praticamente dialogando con il cervello, perché noi in realtà vediamo con il cervello, è precisamente con una parte che sta qui dietro, la parte occipitale, che è collegata all'occhio attraverso le vie ottiche, il nervo ottico e la retina che è l'estroflessione del nervo ottico dentro l'occhio e che ne costituisce la parte posteriore. Quindi la retina immagazzina l'immagine e la invia al cervello e noi vediamo con il cervello. Detto questo, le vie ottiche che collegano ognuno dei due occhi al cervello possono svilupparsi meglio o peggio a seconda che arrivi un'immagine nitida o non nitida nei primissimi anni di vita, dagli 0 ai 7 anni. Quindi tutto ciò che può ostacolare qualsiasi malattia dell'occhio, che può ostacolare l'arrivo dell'immagine da tutte e due gli occhi con pari nitidezza, può creare degli squilibri che portano al mancato sviluppo delle vie ottiche di uno dei due occhi. Per cui è come se il cervello preferisse un occhio perché gli dà un'immagine migliore e penalizzasse gradualmente sempre di più l'altro che partecipa di meno alla trasmissione dell'immagine. Quali sono le cause dell'ambliopia? Tutti gli squilibri che possono far arrivare un'immagine più chiara rispetto all'altra. Quindi un disallineamento degli occhi, lo strabismo, per cui un occhio fissa di più e più spesso e l'altro invece rimane deviato. Oppure un difetto di vista alla nascita, per cui magari un occhio è mio e l'altro non lo è, quindi un occhio riceve un'immagine nitida e l'altro no. Oppure un altro difetto di vista, che possono essere l'ipermetropia, l'astigmatismo, cioè qualsiasi asimmetria fra due occhi che renda migliore e prevalente un occhio rispetto all'altro può dagli 0 ai 7 anni determinare una preferenza del cervello rispetto a un occhio e la penalizzazione dell'altro. Quanto è diffusa, dottore, questa patologia? Diciamo che la diffusione è ancora abbastanza presente, ma sicuramente negli ultimi 20 anni, direi 30 anni, proprio perché è prevenibile, c'è stato un miglioramento dell'attenzione su questa prevenzione, perché un momento nevralgico in cui bisogna far vedere i bambini è ai 3 anni, perché a 3 anni il bambino innanzitutto si fa visitare perché inizia a collaborare. Possiamo riscontrare queste asimmetrie o alterazioni come lo strabismo, i difetti di vista, ancora tempestivamente per poter poi fare qualcosa, cioè riabilitare l'occhio che è penalizzato. Quindi si può evitare, dottore, lo sviluppo dell'ambliopia? Si può evitare perché ci se ne accorga, diciamo, entro i 4 anni, perché poi abbiamo ancora almeno 3 anni per compensare questa cosa con una riabilitazione ortottica, poi spiegheremo che cos'è, che quindi può risolvere il problema e compensare questo squilibrio iniziale. Comunque è diffusa questa patologia, dottore? È diffusa, ma era diffusissima negli anni scorsi perché non si faceva prevenzione. E siccome i difetti di vista, soprattutto, non venivano individuati tempestivamente, dopo i 7 anni non si poteva fare più niente e rimaneva questo squilibrio per sempre. Quindi dice, c'è un occhio pigro, molti non sapevano addirittura di averlo, perché erano totalmente abituati fin da piccoli ad avere la prevalenza dell'uno rispetto all'altro e capitava addirittura che le persone se ne accorgessero per caso un bel giorno, chiudendosi l'occhio dominante, si accorgevano che l'altro occhio non vedeva. Oggi cerchiamo di evitare che questo avvenga e pensi che addirittura lo strabismo acquisito, cioè legato a un difetto visivo che si chiama ipermetropia, portava i bambini a diventare strabici perché non corretti in questo difetto tempestivamente. Oggi, che correggiamo quasi tutti i bambini dentro l'età scolare, gli strabismi sono diminuiti del 70%. Quindi si può evitare con una visita oculistica, questo è importante. I tre anni sono una tappa fondamentale. Ecco, bene dottore. E come si può curare una volta che uno ha sviluppato questa patologia? Innanzitutto si individua qual è la causa. Se la causa dello squilibrio è per esempio una cataratta, abbiamo detto che va scoperta ancora più tempestivamente tramite l'esame precocissimo del rosso del fondo, perché va operata prima che l'occhio si impigrisca. Se invece la causa dello strabismo è dovuta a un disallineamento dei due occhi, quindi allo strabismo, bisogna fare in modo che intanto, tramite l'occlusione, cioè chiudendo un occhio con orari adeguati, si faccia sviluppare di più, venga allenato di più l'occhio che di solito partecipa di meno alla visione. Quindi la cosetta occlusione viene fatta per far rientrare in gioco l'occhio che è stato escluso. E poi ci sono altri test che vengono eseguiti appunto dagli ortotisti, che sono delle figure professionali che si affiancono ai medici oculisti, che appunto curano lo sviluppo del corretto movimento degli occhi e la loro collaborazione proprio in questa età così nevralgica dell'età pediatrica. Oppure, come dicevamo prima, se si individua un difetto visivo importante, soprattutto se è squilibrato, cioè molto più a carico di un occhio che dell'altro, la correzione deve essere assolutamente tempestiva e completa, ecco perché già ai tre anni, ma qualche volta anche ai due e mezzo, oggi si vedono bambini con gli occhiali, perché vengono corretti prima che si sviluppi l'ambliopia. Lì siamo già nell'ambito della prevenzione. Una volta raggiunti gli otto anni, sette, otto anni, i giochi sono fatti, nel bene e nel male. Se si è fatta una buona prevenzione, la visione sicuramente si sarà sviluppata in pari grado fra i due occhi. Se invece non si è stati tempestivi, può rimanere un occhio più pigro dell'altro. Infatti adesso chiederò appunto al dottor Borgioli, che cosa accade se non viene corretta in tempo l'ambliopia, oltre a quello che ha accennato il dottor Sprovieri? Sì, abbiamo dato quindi il termine dei sette anni come un momento fondamentale, perché effettivamente oltre quel momento, qualsiasi cosa andiamo a fare, dal punto di vista funzionale e terapeutico, non ha poi grandi risultati. Quindi la prevenzione è fondamentale e l'ambiopia profonda porta ad un grave deficit visivo. In quel caso, quindi, i due occhi risultano spesso non più allineati, perché abbiamo un occhio dominante e un occhio che invece il cervello non predilige come tale e quindi il soggetto tenderà a vedere solamente come un occhio. In questo caso, il senso di profondità viene meno, perché sappiamo essere il senso di profondità fondamentale nel meccanismo di stereopsi. Quindi noi abbiamo una profondità tale solo quando riusciamo a fondere tutte e due le immagini. Il nostro cervello, quindi, ha bisogno di vedere con entrambi gli occhi. Esistono poi ambliopie meno profonde che ci permettono quindi di avere una visione tutto sommato buona, ma non eccellente. Ma il grado visivo rimane sostanzialmente quello. Quindi è fondamentale arrivare a non avere un'ambliopia. Ci sono alcuni casi anatomici in cui non è possibile, perché ci sono alcune volte delle differenze tali anatomiche tra un occhio e l'altro in cui non è possibile poi raggiungere quindi un buon livello visivo. Bene, ecco, poco fa il dottor Spruvieri ha accennato allo strabismo. Ecco, ora lei ci vuole dire, dottore, che cos'è esattamente lo strabismo? Sì, lo strabismo è fondamentalmente un disallineamento tra i due occhi. Quindi questo disallineamento può essere convergente o divergente e a volte anche più raramente verticale. E quindi possiamo avere gli occhi che convergono verso il nostro naso in maniera anche alternante. Quindi ci sono due tipi di strabismo, dottore. Molti tipi di strabismo in base anche a come funzionano i nostri muscoli. Noi sappiamo che i muscoli estrinseci dell'occhio sono sei per ogni occhio e questi muscoli devono lavorare contemporaneamente manovrati dal nostro cervello. Se pensiamo, abbiamo 12 nervi cranici e tre di questi sono deputati al movimento degli occhi e quindi è una fase molto complessa in cui la fase celebrale è fondamentale e sono tanti i momenti in cui si possono verificare quindi dei disallineamenti. E' chiaro poi che esercizi appositi attraverso quindi l'ortottista che è questa figura che accompagna l'oculista o attraverso invece dei trattamenti chirurgici possiamo poi ricondurre un allineamento pressoché normale in molti casi che possiamo trattare. Bene. Ecco, dottor Sprovieri, quali sono le cause dello strabismo? Le cause possono essere congenite, esiste ancora oggi lo strabismo congenito cioè già presente alla nascita che di solito è di notevole gravità ed ha un altissimo rischio precoce di occhio pigro, quindi di ambliopia quindi molto spesso si opera precocemente si cerca prima di raggiungere, questo è stato molto discusso negli anni perché negli anni precedenti si operava proprio nei primissimi mesi di vita oggi in alcuni casi si preferisce prima raggiungere la sicurezza che i due occhi riescano tutti e due a partecipare alla visione quindi si fanno per esempio dei bendaggi alternati, precoci cioè ci sono una serie di stimolazioni per cui si cerca di portare un po' più in là l'intervento anche perché la fretta che si aveva una volta era legata all'obiettivo, raddrizzandoli il prima possibile di poter rincorrere e ottenere la visione binoculare di cui parlava il dottor Borgioli cioè la collaborazione perfetta, ottimale fra i due occhi ottenendo quindi il massimo grado di profondità di stereopsi, visione stereo oggi spesso con lo strabismo congelito questo non si riesce pur operando precocissimamente ad ottenere quindi si preferisce portare il bambino anche per motivi di anestesia generale a un'età un po' più avanzata nel frattempo si cerca di fare in modo che i due occhi comunque in maniera alternata ma partecipino entrambi alla visione Il trattamento dottore è con questo vendaggio? Il trattamento può essere precocissimo o un po' più tardivo a seconda della gravità però ecco si cerca di far sviluppare due occhi giocando appunto sull'occlusione di un occhio in maniera ovviamente con dei protocolli ormai abbastanza standardizzati in base al problema in modo da portare il bambino ad avere pari acuità visiva si chiama isoacuità visiva cioè i due occhi devono aver sviluppato tutti e due la stessa vista e possibilmente partecipare tutti e due come dicevo prima in maniera alternata a quel punto quindi sistemata la parte funzionale di cui parlavamo prima possiamo con la chirurgia raddrizzare gli occhi il più possibile facendo in modo che anche dal punto di vista estetico che ovviamente per i genitori non è una cosa trascurabile si ripristini una situazione gradevole, normale e nello stesso tempo ci sia una migliore collaborazione fra due occhi Bene, dottor Borgioli qual è il tipo di trattamento chirurgico che viene eseguito per correggere lo strabismo? Sì, il trattamento chirurgico dipende innanzitutto dal tipo di strabismo a cui andiamo incontro se noi pensiamo ad uno strabismo convergente in cui quindi gli occhi tendono ad andare verso l'interno dobbiamo andare a alterare la funzionalità dei muscoli che determinano questo malfunzionamento e quindi agire sui muscoli retti esterni e sul retto interno quindi andando a potenziare o a diminuire l'attività di questi muscoli in base a come vogliamo allineare gli occhi poi esistono altri tipi di interventi di strabismo più complessi in cui si va a giocare anche sul muscolo grande obliquo che è un altro muscolo che determina probabilmente più le posizioni verticali dell'occhio però oggi, come diceva anche il dottore questi interventi stanno diminuendo fortemente proprio per la grande prevenzione che andiamo a fare è fondamentale però che siano fatti questi interventi da persone che abbiano una grande esperienza perché i calcoli che andiamo a fare prima dell'intervento non sono calcoli matematici quindi è fondamentale l'esperienza anche dell'operatore per poter avere il miglior risultato funzionale e anatomico degli occhi Ecco dottore, sempre nell'ambito della patologia pediatrica che cos'è la congiuntivite di Bernal? È una congiuntivite che normalmente si presenta nell'età adolescenziale molto importante con una chemosi della congiuntiva un'eperemia della congiuntiva molto violenta a volte che può assomigliare in qualche modo anche ad una cheratocongiuntivite primaverile ma ha caratteristiche anche autoimmuni tanto è che il trattamento risulta poi essere diverso e in particolare infatti si usano poi colliri come terapia alla ciclosporina e non solo cortisonici ed antistaminici come invece nella cheratocongiuntivite classica primaverile Invece dottore, un'altra patologia è la stenosi del dotto lacrimale ci vuole dire di che cosa si tratta? Sì, è caratteristica nei primi mesi di vita la presenza di muco, di catarro a livello del dotto lacrimale molte mamme ci telefonano per sapere come devono comportarsi, cosa devono fare la verità è che molti bambini all'inizio hanno questo dotto lacrimale chiuso e mano a mano nel corso dei mesi attraverso un massaggio specifico sulla zona attraverso quindi la pulizia e l'apertura di questo canale manualmente si riesce poi a disostruire ma non va mai operato mai prima almeno dei due anni di vita e quindi anche il consiglio che si dà sempre alle mamme è di non essere poi troppo ansiose e di aspettare perché sicuramente poi insomma questo difetto andrà via spontaneamente Bene, ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria restate con noi torniamo tra poco sempre con il dottor Sprovieri e il dottor Borgioli La sanitaria Fogliardi del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere con esame baropodometrico elettronico gratuito statico, dinamico e morfologico negli storici locali di Via Esonso ad Ancuna vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili fornitore autorizzato Asur Inail disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali per informazioni 071 20 33 24 per informazioni 071 20 33 24 grazie a tutti